e siamo ritornati in studio in questa prima serata di Angoli nella nuova stagione televisiva come vi dicevo ripercorreremo tutti i fatti più salienti più interessanti dell'estate che ormai davvero sta per abbandonarci ma che meritano assolutamente una riflessione il secondo ospite di questa serata innanzitutto un amico carissimo ma è sempre capace di essere puntuale osservatore e di trasmettere a chi ascolta dei concetti davvero molto chiari forse perché è un grande comunicatore anche la sua passione ve lo presenta Alessandro Nardone qui di nuovo con noi ciao Ale ciao Dolores tu sei sempre invece troppo buone non è vero perché tu sei uno scrittore abbiamo letto moltissimi dei tuoi libri con piacere e li conserviamo perché ci aiutano molto a vivere in questo mondo che sta cambiando questo sarà anche un po' l'argomento ma tu sei anche un social media strategist quindi insomma la comunicazione il modo di porsi studi il tuo quello delle persone che ti stanno intorno ma anche quelle ovviamente dei grandi personaggi quindi la politica dell'estate che come dicevamo sta per chiudersi quale grande persona già visto in italia l'estate si chiude potremmo dire aprendo una stagione che si preannuncia molto interessante che è quella che ci porterà alle elezioni europee come abbiamo visto c'è grande fermento grande movimento in questa scomposizione ricomposizione di quelli che sono gli schemi a cui eravamo abituati che evidentemente non esistono più perché partiamo subito da qui perché è cambiato il mondo bisogna partire anche nel mestiere che faccio molte volte i miei interlocutori si aspettano delle analisi arzigogolate mentre invece poi bisogna andare a cercare quelle che sono le soluzioni più semplici perché comunicare oggi significa semplificare il messaggio che deve arrivare e quindi gran parte della vecchia classe politica che ancora oggi rappresenta milioni di elettori non si è resa conto dimostra di non essersi resa conto che è cambiato il mondo sono cambiate quelle che sono le aspettative delle persone sono cambiate le condizioni in cui le persone lavorano è cambiato il mercato del lavoro sono cambiati i problemi a cui devono far fronte le persone quindi cambiano o dovrebbero cambiare anche le soluzioni invece noto che la parte diciamo che una volta si riconosceva nel cosiddetto schieramento di centro-sinistra e non mi riferisco soltanto l'Italia perché questa è una crisi che come vediamo è mondiale dagli Stati Uniti all'Europa è una crisi profondissima di identità cioè loro dal mio punto di vista hanno perso quote importantissime di rappresentanza perché hanno dismesso molte troppe delle istanze che prima facevano sì che loro prendessero voti ad esempio in grande prevalenza nelle classi medio basse quindi nelle fabbriche che tra l'altro sono sempre di meno nei quartieri popolari che invece oggi e non è certamente un caso votano in larga parte per i partiti che vengono considerati etichettati come populisti. Quindi detto questo oggi nel panorama che hai descritto molto bene che caratteristiche deve avere un vero leader politico e se c'è in Italia secondo te chi è? Beh oggi sicuramente ed è molto semplice risponderti abbiamo Salvini e Di Maio che incarnano alla perfezione il come arrivare poi non sta mai in questa sede dire che quello che stiano facendo sia giusto o meno attenzione io dico soltanto una cosa che noi abbiamo a disposizione uno strumento che è il web che ci ha messo davvero nelle condizioni di poter arrivare a chiunque però molto spesso anche qui si perde di vista la bilateralità dello strumento ovvero un altro errore che fa chi non ha molta dimestichezza o chi purtroppo ha questo atteggiamento anche nella vita quotidiana quindi offline è quello di usarlo in maniera verticale quindi è esattamente come se io non stringessi la mano una persona che viene da me per presentarsi o se guardassi chi ho di fronte dall'alto verso il basso quindi l'uso che ne fanno Salvini, Di Maio e come loro gran parte della generazione che sta venendo fuori dei politici di oggi è esattamente questo l'aver compreso che è uno strumento che è usato in maniera orizzontale quindi mettendosi sullo stesso piano delle persone, le persone oggi per diversi motivi l'altro giorno è stato caduto l'anniversario della crisi drammatica del 2008, la bolla speculativa sono cambiate tante cose e la gente chiaramente è più arrabbiata nei confronti della classe dirigente quindi se tu non hai l'umiltà e anche voglio dire la contezza di comprendere che non puoi più interpretare il ruolo di politico come quello di persona che sta su un piedistallo rispetto al popolo ma che devi necessariamente stare tra la gente, ad esempio Salvini prendiamolo come che stadi, Salvini tu lo vedi sul web ma lo vedi praticamente tutti i giorni in una piazza, in una città, in mezzo alla gente Ecco quindi la domanda me l'hai rubata ma voglio puntualizzare un utilizzo così concreto, finalizzato e contemporaneo del web che sappiamo per propria natura di fatto è abbastanza virtuale, poi richiede una forte compensazione invece di concretezza come hai appena detto, però insomma comunichiamo via web ma poi ci siamo di persona e siamo lì Assolutamente ma questo riguarda anche le aziende tu pensa un'azienda che deve pubblicizzare un prodotto se quel prodotto non accontenta i propri consumatori quell'azienda potrà investire milioni di euro in comunicazione che comunque Alessandro quando lo proverà e non sarà soddisfatto per quello che ne ha tratto andrà molto probabilmente sul web, che sia Facebook o su qualche altro social e scriverà il proprio disappunto sia che quella azienda abbia speso un euro che abbia speso un milione quindi c'è proprio quello che deve emergere, un concetto che riguarda proprio un'alfabetizzazione digitale cioè noi rendiamo sul web tanto quanto rendiamo fuori dal web quindi il web deve essere, se possibile, uno strumento anche per migliorarci oggi le aziende corrono, io lo dico perché è il mio mestiere mi trovo ad andare in aziende che fanno delle cose meravigliose ma che pensano che il web sia ancora un corpo estraneo e invece non è così, dobbiamo assimilarlo perché chi non lo farà da qui ai prossimi anni è destinato purtroppo a perire il luogo di chi invece lo saprà utilizzare dimostrerà di saperlo utilizzare, di farlo proprio e questo vale anche per le classi dirigenti e le classi politiche la gente vuole, li vuole tra la gente, vuole che quantomeno anche se non sono in grado di risolverli immediatamente perché non hanno la bacchetta magica però vuole percepire di essere degna della loro attenzione e di poter contare anche quindi per tornare tra l'altro puntualmente un'altra volta sulla figura di Salvini è considerato anche, per fare un passo più ampio visto che in Europa è entrato effettivamente in maniera prorompente forse come nessun leader politico prima di lui ha voluto o saputo fare non siamo qui per fare questo genere di considerazione di fatto però lui è stato incisivo con determinati paletti questo lo rende all'interno dell'Europa soprattutto in prossimità anche come dicevamo prima di iniziare questa chiacchierata in prossimità delle elezioni europee un personaggio visto anche un po' come leader non solo in Italia ma addirittura a livello europeo proprio per il discorso del populismo che secondo me non è un diminutivo ma è come dici tu un riscontro insomma di riconoscimento no certo quindi in Italia ma non solo anche in Europa? anche in Europa abbiamo visto le recenti elezioni in Svezia che hanno visto il partito cosiddetto populista sfondare a quota 20% in Francia Macron ha raggiunto in tempi brevissimi l'impopolarità del suo predecessore Hollande la Brexit possiamo davvero citare tantissimi esempi Salvini che è arrivato alla copertina del Time ha messo in atto un altro concetto banalissimo le idee che si trasformano in azione altra cosa alla quale la politica ci ha disabituati tu guarda ad esempio cosa sta succedendo negli Stati Uniti Trump è diventato presidente praticamente facendo urlare i più alla catastrofe annunciata invece quest'uomo ha gli indicatori dell'economia che sono ai massimi livelli da decenni è riuscito, arrivato dopo i due mandati inconcludenti in questo senso di Obama che aveva soltanto aumentato le tensioni a firmare un protocollo d'intesa sulla denuclearizzazione della Corea del Nord un contro oggettivamente storico con Kim ha fatto delle cose sta facendo quello che aveva detto che avrebbe fatto in campagna elettorale è così Salvini Salvini ha detto che si sarebbe occupato di immigrazione che avrebbe fermato gli sbarchi e lo sta facendo e la gente lo premia per questo motivo e l'opinione pubblica lo premia per questo motivo perché lui sta dimostrando con i fatti di essere fedele a ciò che diceva e quindi in questo senso siamo quasi in chiusura della nostra chiacchierata mi piacerebbe con te che sei così veloce, così social, così web è un botta risposta quindi quattro concetti ampi che secondo me appartengono anche a Salvini, all'Europa quindi forse a ciò che verrà valori ma come valori sicuramente in primis c'è la coerenza e la coerenza dovrebbe essere trasversale e in questo dovrebbe imparare chi sta dall'altra parte che purtroppo per loro ha dimostrato di non averla ti faccio un esempio praticissimo la sinistra al governo la ricordiamo, l'ultima esperienza di governo per aver abolito l'articolo 18 cosa sulla quale peraltro io sono d'accordo ma fatta da un governo di centro-sinistra e per aver aiutato con soldi pubblici le banche giusto o non giusto, non sta a me dirlo ma di certo non sono due macro argomenti che fanno contente le persone la coerenza bisogna tornare a una riscoperta dei valori e capire innanzitutto ma questo vale anche per noi se non sappiamo noi stessi chi siamo dove vogliamo andare difficilmente riusciremo ad ottenere dei risultati e così accade anche per i partiti velocissimo confini anche nel web nel web scusa non ho capito la domanda se appunto i confini che devono determinare determinate operazioni all'interno dell'Europa come abbiamo detto insomma soranismi e figure leader e quant'altro esistono anche nel web il web si caratterizza e ha caratterizzato la propria rivoluzione per averli eliminati quei confini tant'è che adesso sta prendendo corpo proprio dal web perché arriva da Steve Bannon che è stato lo stratega colui il quale ha consentito a Trump di vincere la sua campagna elettorale di creare questo movimento transnazionale che si chiama The Movement che sta tenendo a battesimo proprio in queste settimane è venuto l'altro giorno a Roma a dimostrazione esattamente di questo concetto che il web è riuscito nel bene e nel male attenzione anche a globalizzare quelle che sono le opinioni e a globalizzare in un certo qual modo anche i problemi se tu ascolti le persone gli elettori americani sentirai che hanno più o meno gli stessi problemi che hanno gli elettori italiani e quindi le domande le richieste e le soluzioni sono mutuabili anche da un paese all'altro Alessandro io ti ringrazio tantissimo come sempre per questa bella chiacchierata davvero costruttiva ma molto concreta nonostante si sia mossa poi nei confini del web so che ci sono cose importanti nuove vicine delle quali mi auguro tu vorrai venire a parlarne qui se lo vorrete sarò ben felice è un arrivederci a prestissimo per ora grazie davvero ad Alessandro Nardone grazie a te e grazie a tutti voi e grazie anche a voi per essere stati da subito in questa prima serata di Angoli in mia compagnia ovviamente ci rivediamo domani rimanete lì tra poco c'è la nostra informazione grazie a te e grazie a tutti grazie a tutti